Stanco di perdere tempo? Sono anni che vorresti ristrutturare la tua casa, ma solo l'idea di trovare la ditta adatta ti fa uscire di testa? Vieni da noi! Scegli... Dittatura! Da anni la ditta fratellitura si occupa di prendere decisioni al posto del cliente. E tu? Non dovrai più pensare a niente! Prenderemo noi le decisioni al posto tuo! Quella parete rosa? La facciamo nera! E quel bel prato fiorito? Asfaltare! E la cameretta dei bimbi? Ci facciamo la cuccia del cane! Lo so, erano anni che speravi che noi prendessimo decisioni al posto tuo, è vero? E noi siamo qui per questo! Lo facciamo per aiutarti! Ti puoi fidare! Fidati! Fidati! Fidati dai, fidati! E quando avremo buttato giù il muro portante della tua casa, hai voglia a lamentarti! Da oggi c'è... Dittatura!